Si è conclusa domenica 5 giugno, allo stadio 25 aprile di Molletolo, la finale nazionale della dodicesima edizione della Danone Nation Cup, il torneo internazionale di calcio per ragazzi tra gli 11 e 12 anni, organizzato in Italia con la collaborazione del Centro Sportivo Italiano. Oltre 2.800 ragazzi, provenienti da tutta Italia, hanno partecipato alle 8 tappe regionali disputate in due intensi fine settimana di sport, che hanno coinvolto anche le province di Andria, Bergamo e Cremona il 14 e 15 maggio, Genova, Roma, Cava di Tirreni, Reggio Calabria e Parma il 21 e 22 maggio. La classifica finale delle 8 squadre che si sono affrontate allo stadio 25 aprile, ha visto primeggiare la regina, che ha battuto in un'infuocata finale la Cremonese. A seguire, certamente non per impegno profuso e capacità, la Res Casoria di Cava dei Tirreni, l'Aurora Seriate di Bergamo, l'Sd Lodigiani di Roma, l'Sd Don Uva Calcio 1971 di Andria, l'Atletic Club di Genova e il Real Crociati di Parma. In autunno quindi, i ragazzi della regina calcio voleranno a Madrid, nel mitico Santiago Bernabeu, per contendersi, insieme ai ragazzi provenienti da altri 39 paesi di tutti e cinque i continenti, l'ambito trofeo mondiale. La dodicesima edizione della Danone Nations Cup è stata patrocinata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo sporto, onorevole Rocco Crimi, dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e dalla Regione Emilia Romagna. Inoltre, il Presidente della Repubblica ha voluto destinare una medaglia, quale il suo premio di rappresentanza, a questa dodicesima edizione. Sostenitori del progetto, anche Adidas, Canon, Eurosport, Ferrarelle, Hokkaidi e Pro Evolution Soccer 2011. Bene, non ci poteva essere occasione migliore per il CSA per venire a fare la finale, per il CSA per Danone a Parma che quest'anno è una città europea per lo sport. Danone, il Danone Nation Cup è una delle manifestazioni più importanti che ci sono al mondo, ci sono 40 nazioni coinvolte e siamo alla dodicesima edizione. Quest'anno Parma rappresenta un momento importante per questo particolare significato di evento che viviamo qui con noi quest'anno. C'è una cosa da dire, questa finale italiana è la decima che si disputa fino ad oggi in tutto il mondo e quindi siamo già pronti per vivere l'esperienza del 9 di ottobre a Madrid. Io sono redice dell'anno scorso in Sudafrica, assistito a un momento veramente emozionante di questa attività e quindi credo che non si possa dire altro che di trasmettere questo entusiasmo che i giovani hanno, che questi ragazzini hanno per vivere un'esperienza veramente di grande rilievo, non soltanto dal punto di vista calcistico ma fondamentalmente dal punto di vista umano. Danone National Cup rappresenta questo, un momento significativo, tecnicamente intenso ma anche un grande momento di valori che si esprimono nella partecipazione, nella gioia di vivere in uno sport veramente vissuto. 2.800 ragazzi che si sono contesi in giro per l'Italia a questa finale di Parma. Oggi otto squadre si contenderanno invece la grande finale di Madrid a Santiago Bernabé, uno stadio storico ma soprattutto quello di oggi a Parma è una giornata di sport ma anche di amicizia, di fair play, non dimentichiamo che infatti il motto di Danone è quello vivi i tuoi sogni ma vivi i tuoi sogni nel migliore dei modi, cioè giocando uno sport sano e uno sport agonistico ma con tanto fair play sia in campo che anche fuori dal campo. Quest'anno abbiamo voluto associare anche al Danone National Cup un questionario per i mister e per gli allenatori di tutte queste squadre per capire qual è lo stile di vita di questi ragazzi e magari lavorare insieme al CSI che è il nostro partner storico nella manifestazione per correggere gli stili di vita non adeguati. Da Parma al Santiago Bernabé di Madrid per vivere una finale internazionale sempre più emozionante ma non ci sarà solo la squadra azzurra nel cuore della DNC Italia, ci sarà anche la squadra di Haiti, la squadra di Kenskov che è ospitata da Danone Italia grazie alla fondazione Francesca Rava. I ragazzi dell'Orfanotrofio andranno a Madrid a fare una finale internazionale insieme a tutti i loro coetanei. Questo è anche il modo per vivere lo sport, vivere lo sport in amicizia ma con tanta solidarietà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.